Salve a tutti, benvenuti in un nuovo video Allora, allora, è stata una settimana densa di novità e direi che si può parlare ancora di novità assolutamente sì, perché sono state aggiunte ulteriori informazioni sulla patch che è stata recentemente rilasciata parliamo appunto della 3.4 alcune sono molto interessanti altre sono delle piccole precisazioni quindi comunque vediamo che cosa è cambiato la prima cosa che avrete sicuramente notato o meglio, una delle prime cose che avrete sicuramente notato è la presenza appunto delle tag adesso quindi sarà possibile ad ogni campione assegnare una tag diversa in base a quello che vogliamo ora, la guida della Plarium gli dà anche un significato in realtà serve più a voi che al gioco non è che se mettete in versione attacco cambia qualcosa serve soltanto a voi per capire che cosa deve fare il campione insomma è il modo in cui l'avete buildato oppure semplicemente se è il vostro preferito quindi a Belanor a cui un cuoricino si addice proprio tanto 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 gli mettiamo un bel cuoricino perché se lo merita sono state poi modificate le missioni avanzate o meglio, è stata aggiunta un'ulteriore missione vale a dire questa utilizza 5 chiavi d'argento in torre sventura allora le chiavi d'argento sono quelle che utilizzate contro i boss di sicuro ne avrete 10 al giorno quindi io per esempio i boss non li farmo praticamente mai ho iniziato adesso devo dire ho iniziato adesso perché c'è questa missione però specie nella torre tosta alcuni boss meritano di essere farmati quindi vale la pena comunque di spendere queste chiavi se non altro almeno per completare le missioni giornaliere siccome è stata aggiunta un'ulteriore missione ma la Plarium ha deciso che comunque ci vogliono 25 giorni per completarle dalla prossima rotazione quindi nel mio caso una volta che avrò preso questo tomo leggendario ci sarà un'ulteriore pietra miliare insomma un'ulteriore pezzo da 90 da ritirare in questo caso un pollo 4 stelle quando si arriva a 80 quest completate è stata poi cambiata leggermente la meccanica riguardante i buff scudo quindi se prima l'aggiornamento degli scudi avveniva semplicemente in base ai turni a disposizione quindi un buff nuovo andava a sostituire uno precedente semplicemente perché quello nuovo poteva durare per due turni o più turni insomma quello che è e non veniva presa assolutamente in considerazione la quantità di questo scudo ciò comportava che per esempio una duchessa che mette uno scudo con la sua skill primaria decisamente molto molto più piccolo rispetto a quello di Crisk con la sua passiva andava a sostituire quello esistente mettendone uno più piccolo perché magari lo scudo di quel campione non era stato ancora toccato quindi poteva essere ancora completamente disponibile o in gran parte disponibile e la nostra duchessa di turno poteva andare a sostituirlo con un qualsiasi altro scudo più piccolino vedete che non è successo assolutamente niente prima invece sarebbe stato sostituito con qualcosa di decisamente più piccolo ora mi è capitato molto molto spesso perché in arena si trovano un sacco di duchesse si trovano insomma un sacco di Crisk e di campioni che mettono scudo in generale che partono con set scudo e così via quindi secondo me questa è una cosa buona perché uno scudo anche solo di un turno ma molto molto grosso specie in arena potrebbe pararvi davvero tanto nel momento in cui un campione che mette uno scudo più piccolo per qualsiasi motivo lo sostituiva era fastidioso io non voglio dire che tutte le partite contro duchessa e Crisk insieme l'ho vinta così però vi assicuro che qualche volta è successo specie con campioni molto molto alti in resistenza quindi dove quello scudo non si poteva togliere lo scudo di Crisk non si poteva abbattere ecco ma quello di duchessa si e quindi poteva giocare a favore però ritengo che sia corretto effettivamente andare a privilegiare le dimensioni di questo scudo e non tanto quanto dura in particolare in arena ma in realtà poi un po' in tutte le fasi ci sono diverse modifiche poi a carico dei campioni per esempio e questa non la sapevo Caldrafono piazzerà un colpo extra nel caso in cui l'obiettivo si trovi sotto ad un qualsiasi buff questo era vero già prima però per qualche motivo non piazzava colpi extra su obiettivi inammazzabili e voi direte vabbè chi se ne frega tanto non può morire sì però visto che è un colpo extra avevate due possibilità di attivare un qualsiasi set quindi che ne so un set stordimento un set sonno quello che volete e quindi sicuramente il fatto che questa skill qui piazzi un colpo extra in ogni caso sotto qualsiasi buff compreso inammazzabile aveva perfettamente senso quindi è bene che l'hanno fixato per chi ce l'ha speriamo di trovarlo un giorno hanno poi sistemato il venere che era già stata sistemata prima quindi tutto un casino di sistemazioni comunque adesso contro il boss del clan se non ho capito male questa skill dovrebbe avere la priorità assoluta qualcuno però si è lamentato perché avrà la priorità assoluta e quindi la metterà la utilizzerà anche se i riduci difesa e indebolimento sono già stati piazzati da qualcun altro mi viene in mente che ne so qualcuno che la usa insieme a dragomorfo piuttosto che razzi non campioni del genere sì su alcune combo potrebbe per il boss dei clan stiamo parlando potrebbe dar fastidio potrebbe dar fastidio sicuramente questa cosa qui però se hanno dichiarato che metteranno l'intelligenza artificiale programmabile tutte queste cose penso che smetteranno di essere problemi hanno aggiunto poi due simpatici avatar sconfiggendo la torre sventura in difficoltà normale e in difficoltà tosta su quella tosta ci sarà un bel po' da lavorare ma in teoria su quella facile domani dovrei riuscire a prenderlo sì se non ho un giorno in ritardo portate pazienza la torre sventura proprio mi sta qua un'altra cosa super simpatica che hanno aggiunto è il drop delle varie casse del boss dei clan poteva sembrare scontato per i giocatori un po' più avanti ma vi assicuro che nei gruppi telegram misti dove ci sono giocatori provenienti da qualsiasi livello di gioco una delle domande più quotate e perennemente presente era quale cassa mi conviene fare mi conviene ad arrivare alla prima di ultra incubo oppure alla quarta di incubo ebbene adesso lo sapete conviene la quarta di incubo perché dà la scheggia sacra e dà i tomi sacri che è il motivo per cui si cerca di raggiungere la cassa più importante se invece andate sulla prima cassa di ultra non avete né le schegge sacre né tantomeno il tomo leggendario e mi pare neanche quella celestiale assolutamente no quindi se non riuscite ad arrivare alla cassa trascendente per quanto mi riguarda chiondatevi su incubo ed eventualmente le chiavi extra le buttate su ultra e prendete quello che potete prendere e questo è quanto ci sono altre cose carucce però secondo me molto molto meno importanti quindi inutile che sto qui a tediarvi con nulla vi lascio in descrizione il link che porta direttamente al forum della Plarium così potete leggervi con calma tutto quello che vi interessa detto questo raga il video finisce qui video breve oggi meno male una volta ogni tanto non vi stresso l'anima comunque come al solito vi invito a lasciare un mi piace e a scrivere qua sotto il vostro parere o eventualmente meglio ancora iscrivervi al server discord e continuare la discussione lì perché a tutte le ore del giorno e della notte c'è sempre qualche matto pronto a rispondervi quindi ottimo iscrivetevi al canale mi raccomando accendete la campanella cosa super importante perché tutti quelli che si iscrivono al canale del bradipo furioso fanno i biscotti più buoni al forno quindi se sei una massaia e vuoi migliorare le tue performance come pasticcera non ti resta altro che cliccare il botton e infine come dico sempre siate furiosi ma rimanete bradipi non ti resta altro